Questa è una raccolta firme da parte dell'Unione Sindacale di base, Stato e soprattutto lavoro, questi sono i due punti fermi, un nuovo concetto di Stato o meglio un vecchio concetto che deve tornare non più tutto in mano ai privati e soprattutto avere i diritti riconosciuti da parte dei lavoratori. La Corte dei Conti ha stimato in 350 miliardi l'anno, 350 miliardi di Euro l'anno, la evasione e l'illusione fiscale contributiva. Cosa significa? Che i vari governi ci dicono che le cose non funzionano perché c'è il problema del bicameralismo, perché c'è il problema della corruzione che è un problema vero, però su queste cose non stanno facendo assolutamente niente. Riformano il mondo del lavoro togliendo diritti ai lavoratori e tagliando salari, ma non fanno nulla nei confronti di coloro che rubano soldi poi alle casse pubbliche. Tra le richieste è anche l'abolizione del Jobs Act. Proprio oggi esce una notizia, mai così bassa la disoccupazione dal 2012, tutto merito del Jobs Act. Il Jobs Act è l'ennesima riforma del mondo del lavoro che serve per schiavizzare il dipendente rispetto al primo datore di lavoro che utilizza questa riforma semplicemente per la decontribuzione, 8 mila Euro l'anno. Questi 8 mila Euro l'anno che danno di decontribuzione al datore di lavoro forse sarebbe più opportuno dare al lavoratore. Grazie.